Il Consiglio regionale d'Abruzzo per l'Ucraina, anche il Consiglio per volontà del presidente Sospiri e del vice Sant'Angelo, attiva la macchina di solidarietà per aiutare la popolazione ucraina. Come già fatto a Pescara, la raccolta di beni di prima necessità si farà anche all'Aquila per sostenere la popolazione in fuga dalla propria terra. Il Consiglio tutto ha colto la proposta e così da lunedì 7 marzo dalle 9 alle 13 e sino a venerdì 11 marzo, sempre nello stesso orario, sarà possibile donare beni di prima necessità per gli ucraini che stanno raggiungendo l'Abruzzo in queste ore. Chi volesse aiutare può recarsi all'Aquila, a Palazzo dell'emiciclo, sede del Consiglio, ingresso del coronato, dove troverà personale dedicato che raccoglierà le donazioni, che poi saranno distribuite a comuni e organizzazioni no profit che stanno accogliendo i profughi. Sembrerebbe una cosa banale, ma nella pratica così non è. Si fa appello quindi alla sensibilità affinché quanto donato sia integro. Il Consiglio ha fatto anche una veloce ricognizione, servono soprattutto prodotti per l'infanzia, per uomo e donna, ma anche materiale di abbigliamento intimo, prodotti vari, nell'ottica che la solidarietà è pane prestato. L'Abruzzo e l'Aquila non dimenticano quella ricevuta a suo tempo. Come Consiglio regionale dovevamo e dobbiamo fare la nostra parte per la popolazione ucrania che sta vivendo un vero e proprio dramma. Il dramma della guerra è unito al dramma di ritrovarsi senza nulla, senza una casa e quindi l'Abruzzo che è terra accogliente non può tirarsi indietro. Apriremo da lunedì anche all'Aquila un punto di raccolta che sarà a disposizione di tutti i cittadini. Il Comune dell'Aquila ha messo a disposizione già diversi abitazioni e progetto casi. I comuni dell'Interland hanno messo a disposizione anche i mappi, i moduli abitativi provvisori costruiti con il terremoto e quindi la solidarietà è totale, siamo pronti ad accogliere queste persone e queste famiglie. Per lo più sono mamme con bambini quindi abbiamo bisogno di beni di prima necessità per i bambini, per i ragazzi e per le madri. Quindi il Consiglio regionale farà la sua parte.